Non si può dire che alla fine tanto tono che piove, anche senza troppe avvisaglie dal cielo, però la pioggia è tornata a cadere sulla Toscana in maniera copiosa in alcuni casi, ma fugace, nelle zone di nord-ovest in particolare e in quelle centrali. Tuttavia l'Aff è tornata poi subito a farsi sentire. D'altronde sono due giorni da Boldino Rosso quelli che sta attraversando il Gran Ducato. Il record è stato toccato dal rilevatore di Firenze Peretola che ha segnato 40 gradi, battendo ufficialmente il precedente record per una massima registrata nella stessa stazione fiorentina a giugno 2019 quando la colonnina segnò 39 gradi. Cerchiamo di stare attenti a come è possibile e come è giusto fare, quindi questo è un invito a tutti i cittadini. Sono preoccupata per tante cose io. Il caldo non dà tregua neppure di notte e secondo i dati di Coldiretti le condizioni climatiche terrebbero svegli ben 700.000 toscani che soffrono di insonnia a causa delle elevate temperature. Una su cinque risentirebbe del problema. Per garantire un riposo più tranquillo si consiglia dunque di evitare oltre ai classici caffè e superalcolici gli alimenti conditi o cibi salati nemici del sonno. Nei prossimi giorni poi la morsa dovrebbe allentarsi da sé, anche se non di molto.